Innanzitutto di cosa parla questo libro di Tilden? Beh, il titolo già è evocativo, Arte e Scienza del Gioco, quindi è un compendium e parla di tutta una serie di cose che illustrano questa magnifica disciplina che va dalla performance all'insegnamento e anche alla filosofia di vita perché, come dice Tilden, una racchetta è un passaporto per ogni città. Secondo te cosa sta cambiando nel gioco del tennis in questi ultimi 10-15 anni? Beh, a parte l'ovvio dei materiali, si cerca adesso di trovare una formula probabilmente di marketing per cercare di aumentare i profitti, che è una cosa molto importante, però io dico anche nel contempo di stare attenti a preservare il DNA del gioco. Il XIX secolo ha scoperto il tennis e altri meravigliosi sporti, il XX li ha lanciati nell'orbita dell'audience internazionale. Speriamo che il XXI non li deformi e li renda un puro show business. Questa è la grande responsabilità che ha il XXI secolo. Io non sono mai precluso a priori alle sperimentazioni, facendo anche ricerca e devo dire che alcune cose non sono state male, come per esempio i 25 secondi che io porterei a 30, facendoli rispettare. E così anche la tecnologia dell'arbitraggio, ci sono meno occhi di falco, meno interruzioni e non è male. I 7 ai 4, a mio parere, sono da rivedere perlomeno. Il punto secco nel game è un'assurdità perché evaporano le palle break salvate o convertite e quindi snaturano il gioco. E anche le cuffie in campo, col coach che parla, questo è uno sport individuale dove fa parte dell'abilità essere soli con i propri pensieri e riuscire a trovare la via d'uscita della situazione di gioco. A mio parere, il giocatore che spaccherà i record oppure diventerà il grande numero uno da cui avvenire non sarà un grande attaccante da lontano, sarà anche un grande attaccante da vicino. C'è un giocatore più completo e più a tutto campo rispetto a quelli che oggi già sono noti al grande pubblico. Si dice spesso che questo è lo sport del diavolo, no? Sì, ci sono anche delle bellissime stampe che ritraggono prelati che giocano appunto col diavolo, sono stampe antiche del 1500. Sport del diavolo, essendo uno sport dove l'aspetto psicologico è predominante è chiaro che c'è un'altalenanza nel decorso della partita e quindi la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Cosa ti senti di dire su Filippo e su questa generazione di italiani come possono essere Sonego, Quinzi, Eremin, tutta questa generazione 96? Ma io metterei dentro anche Gallovic che è stato un mio allievo fin da piccolino, dagli 8 ai 15 anni, quindi auguro loro ogni bene e spero che possano ottenere grandi successi col tennis. Anche se non è facile, sono a mio parere leggermente in ritardo rispetto ai coetanei stranieri, speriamo che riescano a recuperare. Credo che nel caso di Quinzi con il nuovo allenatore e anche Baldi adesso siano più incanalati verso questa possibilità, chi vi verrà vedrà. Come mai maturiamo così tardi nel circuito fondamentalmente? Voglio dire, ma questo non è una questione di tennis, probabilmente anche la società italiana, anche gli studenti fanno fatica a prendere casa da soli, ad allontanarsi dalla famiglia, forse risiede anche in un aspetto generale culturale del nostro paese, ecco perché i nostri giovani maturano più tardi, però meglio tardi che mai.